Signor Alfero si è rivolto a Torino Cronaca per raccontare la sua storia. Qual è l'appello che vuole lanciare alle istituzioni? L'appello alle istituzioni è che io mi sono messo, è vero che ho sbagliato a chiedere dei soldi a certe persone, però mi sono trovato costretto in una situazione di emergenza. Pensavo di riuscire a mettermi un pochettino a posto, invece ho peggiorato la situazione. Nonostante tutto che ho denunciato la persona, in questo caso qua all'inizio le istituzioni mi hanno aiutato, adesso che sto chiedendo un ulteriore aiuto ma non per approfittare della situazione in cui sono, io rischio neanche fra un mese e mezzo circa di andare a dormire in macchina sempre se avrò ancora la macchina, se no sotto il ponte del Po. tra virgolette. Chiedo aiuto alla città, a tutti quelli che mi conoscono e cercare anche attualmente un lavoro perché mi trovo anche disoccupato e non so come far fronte a questo impegno. Grazie a tutti e un saluto.